Siamo all'appuntamento con lo sport ben ritrovati. Taranto ha davanti a sé quattro partite per chiudere la regular season in questo campionato di Serie D, Girone H. Quattro partite che faranno capire anche la posizione all'interno dei playoff della formazione Rosso-Blu. Taranto che attualmente ha agganciato il Cerignola grazie alla vittoria contro la Cavese domenica scorsa e adesso avrà questa partita di Gragnano, una gara insidiosa per questi motivi. Il Taranto ha avuto sempre delle difficoltà su alcuni termini di gioco come ad esempio quello che è stato contro la Frattese, un campo di gioco piccolo che non permette al Taranto di potersi esprimere al meglio. Come più volte hanno dichiarato in sala stampa anche domenica scorsa i giocatori Rosso-Blu Ionici. Taranto che poi giocherà in casa contro il Manfredonia andrà a Potenza dove probabilmente la formazione lucana sarà già promossa in Serie C e poi chiuderà la regular season contro la Turris. Il terzo posto che è quello più vicino ai Rosso-Blu è distante quattro punti ed è occupato dall'Altamura. Questo dovrebbe essere l'obiettivo del Taranto da qui sino al termine del campionato. Domenica non ci sarà Cristiano Ancora che è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo vista la somma di cartellini gialli. Per quel che riguarda la sostituzione saranno decisive le ultime ore. Oltre alla amichevole contro la formazione Juniores sul campo A ci saranno poi gli ultimi due giorni che faranno capire a Michele Cazzarò cosa potrebbe essere utilizzato per mettere pace all'assenza del numero 10 Ionico. Probabilmente si può pensare a un attacco a due con Diachite e Favetta insieme per cercare di scardinare la retroguardia del Gragnano che all'andata fece una buona impressione proprio allo Iacovone. Quindi il Taranto atteso da questa partita domenica si gioca alle ore 15 ricordo la diretta su Studio 100 a partire dalle 14.55 con 100 gol live e poi via via il collegamento con Gianni Sebastio e l'ampio post gara. Invece nella giornata di sabato sempre per quel che riguarda il Taranto giunge all'ultima fase della quinta edizione il progetto formativo fuori gioco che si tiene presso il carcere di Taranto e che ha come obiettivo quello di trasmettere i valori tipici dello sport come il rispetto delle regole dell'avversario promosso dalla dottoressa Stefania Baldassari, direttore dell'istituto penitenziario e dell'avvocato Giulio Destratis, coordinatore nonché presidente dell'APS fuori gioco. Ebbene nella giornata di sabato lo stadio Erasmo Iacovone ci sarà un quadrangolare magistrati, avvocati, agenti penitenziari e detenuti. Ci sarà la presenza di un ex calciatore della Nazione Italiana come Francesco Moriero che fu anche avvicinato dal Taranto qualche stagione fa quando era in Serie C per poter essere il nuovo allenatore della formazione Rosso Blu e dal campione del mondo ed ex allenatore e giocatore del Taranto Franco Servaggi che interverrà nella conferenza stampa che si terrà invece sabato mattina alle 11.30 presso la casa circondolare di Taranto per poi dare inizio al quadrangolare nel pomeriggio. Questo è l'argomento Taranto, ci andiamo adesso a parlare della Virtus Francavilla con la dichiarazione del presidente della Lega Pro Gabriele Gravina. Presidente, oggi sicuramente una grande giornata, una grande festa per la Lega Pro e per lo sport. Sì, diciamo per lo sport, la Lega è solo un veicolo, è una bellissima giornata, una giornata speciale, una giornata di gioia, di festa e soprattutto una giornata in cui questi ragazzi hanno la possibilità di contaminarci con il loro entusiasmo. Ma quanto è bello vedere così tanti bambini che tra poco giocheranno qui in Piazza San Pietro? Beh, è straordinario perché per loro la location è una location sicuramente speciale, straordinariamente bella, ricca di grandissimi valori. Ecco, noi vogliamo oggi che questi ragazzi vivano, toccano con mano questo clima, questa area di festa che voi potete verificare, potete percepire in ogni angolo di questo colonnato, di questa piazza. I ragazzi stanno dimostrando ancora una volta quanto sia forte l'elemento di aggregazione di questo sport. E poi ancora una volta una dimostrazione dell'impegno della Lega Pro verso i valori, quelli più puri dello sport e del calcio in particolare. Noi siamo la base del calcio professionistico, non dobbiamo abbandonarci a dimensioni che non sono le nostre. Noi dobbiamo formare, dobbiamo informare, dobbiamo educare, tra virgolette, anche alla cultura di questi valori straordinari del nostro bellissimo sport. E cosa porterà in sé la persona gravina di questa giornata? Sicuramente la gioia, il sorriso, la voglia, gli abbracci di questi ragazzi che ti danno una grande forza di condividere tanti sacrifici che normalmente e quotidianamente dobbiamo sostenere per far sì che ci sia un grande contributo per lo sviluppo del calcio italiano. Passiamo adesso al campionato di eccellenza. Ricordiamo che quella di domenica sarà una super domenica in eccellenza, in promozione, ma anche in altre discipline sportive. Quindi iniziamoci ad avvicinare a questo super weekend. Partiamo proprio dal campionato di eccellenza, come detto, ascoltando i due Giuseppe, la terza e Branà, rispettivamente allenatori del Fasano e della Vetrana, in rigoroso ordine di classifica. Quella che andrà in scena domenica sarà la penultima giornata del campionato di Premier League pugliese con Vetrana-Fasano che potrebbe decidere il campionato. Le sensazioni alla vigilia o quasi del big match da parte dei due allenatori? Siamo una squadra che sta facendo benissimo, una squadra forte. Bisogna fare i complimenti per tutto quello che hanno fatto quest'anno. Per canto nostro sappiamo dell'importanza della partita e stiamo bene. Finalmente ho recuperato tutti gli infortunati. Arriviamo a questa partita consapevoli che non sarà una partita facile, ma consapevoli che è anche una partita dove possiamo chiudere anche i giochi. Per questo dobbiamo giocarcela con la consapevolezza di essere forti e non dobbiamo sbagliare assolutamente nulla. Noi recuperiamo Morga e finalmente abbiamo la possibilità di schierare tutta la rosa, avendo tutta a disposizione. Noi dobbiamo essere concentrati, dobbiamo essere attenti perché affrontiamo una squadra forte e per questo non dobbiamo svolare assolutamente nulla. Finalmente siamo quasi alla fine e questa è una partita importantissima e dobbiamo chiudere nel miglior modo possibile. La partita è domenica la partita della stagione, però noi la stiamo preparando in maniera molto serena e spensierata, però sapendo che ci stiamo giocando, ripeto, una grande festa di campionato. Anche domenica non è l'ultima partita penultima, poi noi nel Magallipoli e loro giocano contro il Casarano l'ultima. Sappiamo che loro hanno fatto una squadra per vincere il campionato e si trovano lì e noi invece piano piano siamo arrivati con il lavoro, con l'aiuto di tutti, in primis dal presidente, da Antonio Bruno, che è stato bravo a scegliere i giocatori. Dobbiamo essere bravi a togliere i loro punti forti, soprattutto avanti dove loro sono molto bravi, sia sulle pace che avanti sono molto bravi, dobbiamo essere bravi a ripartire. Noi in questa formazione saremo sempre lì, non cambieremo nulla, non ci manca nessuno e quindi giocheremo sempre alla stessa maniera. Ieri abbiamo parlato delle restrizioni per quella che riguarda la partita proprio tra Fasano e Avetrana, sempre con l'aiuto di Peppe Candelli, rivedendo ancora una volta le immagini relative proprio alla gara tra Fasano e Avetrana di andata. Era 1-1 il match per quanto riguarda la penultima di andata, quando la Avetrana sfiorò di diventare prima in classifica proprio in quell'occasione. Ebbene, alla luce dell'enorme richiesta di biglietti con un comunicato dell'associazione Fasano Siamo Noi, erano 1.500 le domande pervenute negli ultimi tre giorni, in seguito dell'assemblea straordinaria dei soci, convocata nella serata di mercoledì con Unica, che all'unanimità è stata presa la decisione, condivisa dalla società US Città di Fasano e della Curva Sud Fasano, di rinunciare alla trasferta di Avetrana, restituendo tutti i tagliandi alla società ospitante. La pesante e mortificante limitazione è dovuta al ristretto numero di posti per quanto riguarda il settore ospiti del Celestino La Serra, della cittadina Tarantina, aggravata dalle responsabilità oggettive attribuite dalla comunicazione del Ministero dell'Interno alla società Fasano, che, lo ricordiamo, oltre al fardello della scelta di eventuali 100 fortunati, avrebbe dovuto farsi carico di 10 steward, ha portato quindi a questa decisione. Questo che vi abbiamo letto è uno stralcio del comunicato Associazione Fasano Siamo Noi. Vi ricordo che domenica potrebbe essere la giornata decisiva anche nel campionato di promozione, con il Brindisi che a Tricase si gioca la promozione in eccellenza, vincendo il Brindisi sarebbe matematicamente certo di salire di categoria, anche facendo lo stesso risultato con lo studi, mentre invece c'è ancora testa a testa nel campionato di promozione il Girone A, dove matematicamente fuori dai play-off il Martina, la ricerca di un posto al sole, quattro punti di vantaggio sulla zona play-out invece il Ginosa. Ed ora una notizia legata alla palla a nuoto alla Mediterraneo-Taranto, campionato di Serie C, e non solo, è inarrestabile la Mediterraneo-Taranto in quanto contro Brindisi ha vinto con il punteggio di 16-6, in quello che era uno scontro diretto, e ha portato da sola Taranto al quarto posto in classifica. Finiamo bene il giorno d'andata, sottolineato il tecnico Paolo Baiardini, con una partita solida e convincente, ma in bilico, con una striscia di quattro vittorie consecutive, certifichiamo la crescita costante dei ragazzi, ai quali faccio i miei complimenti. Il lavoro, il sacrificio e la determinazione spesso vengono ripagati, ma ora è importante non sentirsi appagati e cercare di colmare il gap con le squadre che sono davanti a noi, che se non nello specifico, Salerno e Volturno in testa con 27 punti, e Napoli che ne ha 24. Ricordiamo che Taranto è quarta in classifica, con sei punti di svantaggio rispetto al podio per quel che riguarda l'Under-13, sempre per la Mediterraneo. I baby, allenati da Mattia Di Noi, hanno sconfitto l'Iron Club nello stadio del Nuoto di Bari, con il punteggio di 13 a 8. È tutto per questa edizione di Centro Notizie Sport, grazie a Peppe Candelli in regia, il più cordiale saluto, e buon proseguimento con i programmi di Studio 100. Arrivederci.